Una nuova importante collaborazione per gli arieti, un nuovo sponsor che vuol dire tanto. Sì, siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Pastificio Fabianelli, che è uno sponsor di prestigio e che ci auguriamo possa aiutarci a sfondare in un territorio che per noi è molto importante, che è quello della Valdichiana, in particolare su Castiglione Fiorentino. Quindi per noi è una grossa opportunità e ci auguriamo che sia di buon auspicio sia per la stagione agonistica che per lo sviluppo degli arieti sul territorio. Anche perché grazie alle imprese, soprattutto della Nazionale, il rugby non si considera più uno sport secondario, è uno dei pochi sport che non è più secondario. Noi crediamo che sicuramente il rugby abbia dei valori che lo differenziano dagli altri sport e che noi tendiamo sicuramente a rifenderlo. Certo, in questi ultimi dieci anni lo sviluppo del rugby è stato notevole e a testimoniarlo c'è proprio la nascita di nuove società come la nostra e il successo che queste poi trovano e riscontrano tra gli appassionati e in generale sul territorio. Oggi il rugby non è più visto come uno sport strano, ma è visto come un'alternativa concreta per tutti i bambini e i ragazzi che vogliono fare sport. Con lo sponsor Fabianelli, perché avete deciso di investire nella società degli arieti rugby? La nostra azienda da sempre segue lo sport del territorio. Abbiamo sempre avuto collaborazioni con tanti sport, dal calcio alla pallavolo, al tennis, fino agli sport motoristici. Ci siamo avvicinati quest'anno al rugby perché crediamo che il rugby ha dei valori che lo rendono unico, che lo rendono particolarmente autentico e quindi è una sfida anche per noi che ci dà nuovi stimoli. Un investimento anche nel territorio di Castiglion Fiorentino a cui siete particolarmente legati ovviamente. Esatto, la nostra azienda da sempre è a Castiglion Fiorentino, a testimonianza appunto del legame che abbiamo con la nostra terra, con la nostra città e speriamo veramente che da questa collaborazione tanti bambini, soprattutto anche del territorio di Castiglion Fiorentino, si avvicinino a questo sport perché può rappresentare per loro un arricchimento sicuramente anche a livello personale. La collaborazione con Pastificio Fabianelli non si limita alla prima squadra ma anche a tutto il settore giovanile. Esatto, sì, settore giovanile, questa è la nostra nuova maglietta con lo sponsor, settore giovanile che per gli arieti è nato recentemente, è nato l'anno scorso con un'opera importante che abbiamo fatto sul territorio e nelle scuole di tutta la Valdichiana, da Castiglion Fiorentino a Monte San Savino a Tegoleto, Cigiano, dove abbiamo portato il rugby a conoscenza di circa un migliaio di bambini. Di questi migliaia di bambini diversi sono venuti a provare, si sono divertiti, abbiamo incontrato il favore anche degli operatori scolastici, dei maestri che hanno visto che la nostra disciplina non è una disciplina rude, è una disciplina che al contrario può essere anche utilizzata a fini pedagogici perché il rispetto fondamentalmente delle regole e del proprio avversario è la prima cosa che noi trasmettiamo ai nostri bambini. Per questo il biglietto della visita da portare quindi ai genitori per convincerli che il rugby è lo sport giusto? Il rugby ha numerosi valori ormai riconosciuti educativi, pedagogici e devo dire che ultimamente anche determinate correnti di pensiero sulla terapia di disagi dell'adolescenza e dell'infanzia tipo per esempio l'iperattività, riconosce al rugby un ruolo anche curativo. In questo sport si trova valori, disciplina e un certo tipo di impostazione che proietta il bambino al di fuori di se stesso, aiutandolo poi a vincere anche nei confronti di questi disagi. Grazie.